Buona serata, buon viaggio ancora da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. In A11 ancora code, siamo nel tratto tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est, la direzione quella per Pisa. Rallentamenti anche in A1, traffico intenso all'uscita di Firenze Sud provenendo da Bologna. Code sempre in A1 anche tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Un veicolo in difficoltà sull'Aurelia, siamo al bivio per San Vincenzo Sud, la direzione quella per Roma. Passiamo alla strada di grande comunicazione, ancora code allo svincolo, l'astra segna in uscita provenendo da Firenze e a Firenze città. Il traffico intenso sui viali, via Guido Monaco, via De Redi, via De Belfiore, via De Milton, via De Rosselli, via De Strozzi. E in chiusura ricordo fino al 1 luglio per lavori alla tramvia, rallentamenti e divieti nel contro, via De Strozzi. Muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. A più tardi.